Oggi vi propongo un restyning romanticissimo, uno specchio veramente bellissimo. Devo donare un'aria vintage, anticata, una di quelle patine che piace tanto a me. E qui oggi utilizzeremo Madame e Vintage Rose. Io inizio stendendo il Madame dalla parte bassa. Il Vintage Rose lo tengo per la parte superiore. Ora cercherò di unire i due colori in una sfumatura delicata. Una prima mano è perfetta, non servirà una seconda mano. È arrivata l'ora di fare il nostro lavaggio anticante. Lavaggio perché? Perché è colore, molto molto diluito con acqua, che crea delle velature. È arrivata l'ora di dare colpi di luce al nostro specchio. Ho preso Dark Sand e lo smorzo ancora un po' con un goccio di Vintage. E poi parto. Ora profumo di cera Jasmine. Un ultimo tocco luminoso, principessa. Ciao! 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 Ciao!